Il Consiglio regionale ha approvato con il voto contrario del PD il maxiemendamento alla finanziaria 2013 ed il comma 143 sulla forestazione. Nonostante gli interventi a più riprese delle opposizioni, dell'UNCEM e dei sindacati, a pagare dazio sono ancora le comunità montane. Sul testo portato in aula dalla Giunta regionale non è stato possibile intraprendere alcuna discussione perché la richiesta di fiducia ha di fatto impedito l'esame degli emendamenti proposti dal gruppo del PD. Vengono ridotte le giornate lavorative degli operai idraulico-forestali impegnati nella salvaguardia dei boschi, ledendo tra l'altro con la trasformazione del rapporto di lavoro un diritto acquisito nel corso degli anni. Si è deciso di fare ricorso, dopo diverse sollecitazioni, alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, ma gli investimenti nel settore della forestazione sono insufficienti. L'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, afferma il consigliere regionale Donato Pica, non fa altro che confermare quello che il PD sostiene da tempo, ovvero che l'intervento nelle aree interne a salvaguardia del territorio non rappresenta mero assistenzialismo, come qualcuno vuole fare credere, ma un investimento per i territori a protezione e bonifica dell'ambiente.